ragazzi buongiorno a tutti i fan della pagina Nord Messiaso Cazzo allora da premettere in questo video sarò un po' volgare quindi chi non vuole sentire le mie parole cambia canale da premettere che a me ne passi fuori tra i Wengs, Ruminan e Borrush della campagna acquisti della campagna vendita vorrei rispondere a tutti quei pseudo tifosi gioventini che da premettere non avete mai fatto un bucchino a miscuna di un bucchino sempre che ha parlato tutti i tifosi che è l'Italia d'Europa nel mese avete augurato la morta di un povero bambino che fino a pochi mi si fa combattuto per vivere ma non fai molti discuori c'è dei buonezzi cioè qui da me che si dà buonezza la buonezza l'autom mese nella piazza di Torino a piazza San Carlo doveva festeggiare la finale della cempa su di che l'ha dovuto tutta la rete come sempre perché non siete una squadra che in Europa è vincente perché dice solo in Italia con l'aiuto degli arbitri va riscamazzato come il zoccolo addirittura è morta una povera ragazza di 38 anni ma perché perché non sapevate distinguere un petardo da una bomba ma non vi mettete i suoni c'è dei buonezzi voi augurate la morta di un bambino stile a Juve ragazzi stile a Juve un bacione sempre forza Napoli è si togata Senabala